Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Shan e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi avete letto nel titolo sotto, torno a parlarvi di Naruto. Edito dalla Planet Manga al prezzo di 4,99€. Scusate per i tardi, ma il mio dicolante era andato in ferie, sono riuscita a recuperare questo volume solo oggi. E' stato un volume, anche questo veramente particolare, si chiamava Il Potere di Tashi. Se vi ricordate già nel video precedente, vi avevo già accennato che in questo volume farà la comparsa il personaggio di Tashi Ushika. Cioè il niente po' di meno che il fratello di Sasuke Ushika. Quindi vedremo il passato di questi nostri due protagonisti, dello sterminio della famiglia Ushia da parte di Tashi. E il perché poi lo capirete andando avanti con i volumi. In un volume vedremo anche la comparsa di un altro personaggio che è Kisame. Un personaggio molto misterioso e soprattutto molto potente. E servirà soprattutto l'intervento di Jiraiya, perché questi nostri due individui cercheranno di fermare Naruto, di prendere Naruto, perché è una ricerca di tutti i Kyuubi. E nel frattempo interverrà sia Sasuke che Jiraiya a salvarli tutti e due. Mentre Itashi sta avendo la meglio su Sasuke. Nel volume vedremo anche che Jiraiya insegna a Naruto l'abilità del Rasengan. Piano piano con questo palloncino ad acqua Naruto supererà diverse prove. E poi vedremo in fondo se riuscirà o no a completarlo. Ancora in questo volume non si vede. E siccome loro stanno andando in città in città a trovare una persona, che è Tsunade. Che poi vedrete avanti è un personaggio molto particolare e molto simpatico a mio parere. Che poi diventerà un punto focale nel villaggio della foglia. Quindi sarà un volume veramente ricco di scene, di suspense, ricco di scene molto d'azione ma anche molto drammatico all'interno per via del rapporto tra Sasuke e Itashi. Naruto, partito per un viaggio di allenamento con Jiraiya, viene avvicinato da due sinistri figuri. Itashi, ovvero fratello di Sasuke, e Kisane o Shigaki. A cosa mirano? Proprio quando stanno per scontrarsi con Naruto interviene Sasuke. Quindi questa è una piccola trama di cosa succede in questo volume. All'interno trovate sempre la carta plastificata che riprende la copertina del volume. Ora ogni volta siamo già arrivati a 17 cartoline e sta avvenendo veramente un disegno particolare. Poi le metterò tutte insieme, se mai a fine di questa rubrica. Cioè alla fine io finisco con il volume numero 26, quindi faccio solo la prima serie. Avendo già nell'edizione normale, ho già diversi numeri della seconda serie. Quindi questo qui, l'edizione speciale indicola, mi ferma al volume numero 26. E vi faccio vedere alcuni disegni all'interno perché anche in questo caso sono veramente stupendi. Ecco qua. E quindi infatti in fondo dicono che farà la sua comparsa proprio Tsunade. Tsunade viene avvicinata da Jiraiya, che vuole fare di lei il quinto Kage, e da Oro Shimaru, deciso a farsi guarire le braccia. Le decisioni che prenderà la leggendaria ninja saranno di vitale importanza per il villaggio della foglia. Eccola qui. Prossimamente, cioè per una settimana, col volume numero 18, conosceremo finalmente Tsunade. Bene, detto questo vi faccio vedere ancora una volta le crosse del disegno, una accanto a quell'altra, vi farvi vedere il bellissimo disegno che si sta formando. E così eccoci qua. Come vedete questi sono i numeri che sono usciti dall'1 al 17, e questi sono alcuni numeri che vi dicevo, ormai ho l'edizione quella normale e ormai mi fermo al numero 26, quindi questo lo vedrete doppio. L'avevo preso perché è il mio volume preferito della prima serie. Dal numero 1, 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8, il 9, il 10, l'11, il 12, il 13, il 14, il 15, il 16 e il 17, che ho aggiunto ora, di cui vi parlavo prima. Vedete, il disegno è veramente carino. Devo dire che è un'edizione veramente fantastica, sono volumi che resistono abbastanza rispetto, diciamo, a questa edizione qui, poi leggermente più grande. Quindi le pagine sono più grandi, c'è il commento dell'autore, e quindi poi per 4,99 euro davvero preferisco questa edizione. Bene, detto questo spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere anche voi se avete acquistato il volume 17, cosa ne pensate con un commento qua sotto. e con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!